Sembra che il suo tempo scura più veloce rispetto al nostro, dalla partita con Altmaier a Parigi a quella con Struff, sembrano passate veramente tanti tanti mesi, la realtà è che lui si sente a posto con la coscienza, nel senso che nel momento in cui un giocatore sa di aver fatto tutto il possibile per poter arrivare il più preparato possibile a quell'evento, poi dopo deve viverlo con leggerezza. Di solito quelli più frustrati sono quelli che dicono avrei potuto fare questo, avrei potuto fare l'altro. Yannick da quel punto di vista lì no, perché sa di aver fatto tutto il possibile per arrivare il più preparato a questo evento. Yannick oggi è una dimensione di quelli che molti li battono nello spogliatoio. Ci sono giocatori, e adesso tocco dei nomi importanti, in attività, Djokovic, Rafa, Fisico Permettendo, Alcaraz, sono giocatori che quando tu sai che ci devi giocare contro vedi una montagna altissima. Molti degli avversari, soprattutto nei primi turni, loro li battono nello spogliatoio.